Prima di tutto vorrei salutarvi tutti con il rammarico di non essere lì fisicamente insieme a voi, ma vi seguo e vorrò poi leggere tutti i documenti che racconteranno le discussioni che avete fatto in questi giorni. Io credo che dobbiamo ricordarci sempre che il digitale è un mezzo e non è un fine ed è un mezzo per modernizzare il sistema pubblico, ce l'ha ricordato anche l'Oxe ultimamente. Noi dobbiamo usare questo mezzo per riuscire ad affermare un concetto fondamentale che è quello del digital by default, l'idea che il servizio offerto per via digitale dall'amministrazione non è la buona pratica di un'amministrazione, ma è la via ordinaria con le quali le amministrazioni danno i servizi ai loro cittadini e devono farlo anche in modo semplice. Io non vedo e sempre meno vedo un cittadino che insegue l'online, ma è piuttosto l'online che deve arrivare nella vita del cittadino attraverso l'identità digitale, attraverso un domicilio telematico di cui possiamo nel tempo aumentare le funzionalità. Qui c'è il vero ribaltamento nel rapporto tra cittadino e amministrazione, non sarà più il cittadino a piegarsi ai tempi, ai luoghi, ai modi complicati dell'amministrazione, ma sarà l'amministrazione a entrare nella vita del cittadino e soprattutto a semplificargli la vita, quindi a migliorargli la qualità di vita. È una grande questione di democrazia. D'altra parte il confronto con il privato è impietoso. Oggi qualunque operazione di banking, di e-commerce è facile, poi devi fare un'operazione per via digitale con l'amministrazione e ti scontri con una complessità burocratica anche nel digitale. Perché? Perché per ora l'idea è stata quella di digitalizzare l'esistente. Noi dobbiamo invece usare il digitale come modalità per ripensare in modo innovativo tutti i processi amministrativi e questo perché non è più possibile che ci sia un confronto impietoso con il privato come adesso. Noi stiamo portando avanti una riforma della pubblica amministrazione complessiva e molto ambiziosa che parte dalla carta della cittadinanza digitale, cioè dall'idea che il digitale come mezzo non è un obbligo per l'amministrazione fino a se stesso, ma è un diritto dei cittadini poter avere determinati servizi per via digitale. Io parlerai proprio di livelli essenziali che i cittadini possono aver diritto di ricevere a casa come servizi della pubblica amministrazione, quindi carta della cittadinanza digitale. Poi un grande progetto di semplificazione, con l'agenda per la semplificazione che presentiamo alla fine di ottobre, noi impostiamo con le regioni e con i comuni un cronoprogramma di semplificazioni nei settori che sono i settori strategici per la vita quotidiana di ogni cittadino, dal fisco, penso per esempio alla dichiarazione precompilata che arriverà a casa dal 2015, alla casa, a tutti i temi della salute e della disabilità, ma semplificazione significa anche semplificare proprio l'organizzazione dello Stato, sapere che esiste un unico ufficio territoriale del governo per esempio, che anche simbolicamente è il luogo di incontro tra il cittadino e il suo governo e il suo Stato. Poi una grande operazione sulla dirigenza, perché non ci sfugge che tutto quello di cui abbiamo parlato, può succedere se alla testa dell'amministrazione ci sono dei dirigenti indipendenti, autonomi che entrano per concorso, ma tutto questo non significa che devono essere dei dirigenti paralizzati e inamovibili, nel senso che noi crediamo che una dirigenza di ruolo indipendente non sia in contraddizione con una dirigenza dove viene premiato il merito e dove se un giovane dirigente è bravo non deve aspettare il suo turno per fare carriera, ma automaticamente perché è bravo ottiene un incarico di maggiore responsabilità. Chiudo col punto forse più importante di questa riforma che è il fatto che questo governo si assume politicamente la responsabilità politica dell'attuazione, per noi riforma della pubblica amministrazione non è aver approvato delle norme, un decreto, un disegno di legge in Consiglio dei Ministri e poi portare avanti il disegno di legge in Parlamento, meglio è questo, ma è anche poi seguire l'attuazione e l'esecuzione di queste norme. Ecco tutto questo è quello che in modo ambizioso ma convinto stiamo portando avanti per modernizzare davvero il nostro settore pubblico e non renderlo più fanalino di coda rispetto alle buone pratiche del sistema privato. Una parte importante della riforma della pubblica amministrazione proprio perché puntiamo sulla cittadinanza digitale è quella di includere sempre di più cittadini nella modernizzazione, dell'innovazione, nel fatto che la vita possa essere semplificata attraverso dei percorsi digitali che prima erano estranei probabilmente alla loro vita quotidiana. È anche vero però quando mi chiedono ma la pubblica amministrazione italiana ha troppi dipendenti? No, non ne ha troppi, ma probabilmente hanno un'età media troppo alta e questo perché è un problema? Perché noi abbiamo bisogno delle generazioni di nativi digitali, ne abbiamo bisogno per fare tutto quello che abbiamo in mente di fare e abbiamo proprio bisogno di persone formate, di persone competenti su questi temi e per questo nella riorganizzazione della scuola della pubblica amministrazione che stiamo facendo ci sarà un'attenzione particolare proprio alle competenze tecnologiche, alle competenze per portare avanti il digitale, ecco ne abbiamo bisogno perché noi non riusciremo a usare la leva del digitale come leva di modernizzazione della pubblica amministrazione senza affermare le competenze in questo settore perché sono poi le persone che porteranno avanti questo cambiamento. Certamente proprio perché il digitale è un modo di vedere il futuro ha bisogno di una grande capacità di strategia, di visione e quindi di una leadership forte, però leadership non significa calare poi le idee dall'alto, la leadership deve servire anzi poi a coinvolgere tutti gli attori, a far collaborare tutti gli attori, quindi io vedo leadership e collaborazione, insieme poi ho un altro aspetto fondamentale che è quello dell'esecuzione, dell'attuazione, non dimentichiamoci mai, lo dico a me stessa per prima, che tutti i progetti di digitalizzazione dall'anagrafe della popolazione residente alla fatturazione elettronica, al fascicolo sanitario elettronico, sono implementati da migliaia di persone, quindi senza un project management che funziona noi non possiamo avere l'ambizione di arrivare alla fine, così come non possiamo avere l'ambizione di arrivare alla fine se le amministrazioni non collaborano fra loro e per questo penso che sia molto importante anche aver approvato delle norme che danno un potere sostitutivo alla presidenza del consiglio e che quindi dicono alle amministrazioni, noi vi chiediamo di collaborare, noi vi chiediamo di fare insieme i decreti attuativi, ma se non li fate li faremo noi per voi, perché di tempo ne abbiamo già perso troppo. Ho sempre di più la sensazione che esiste un logoramento del rapporto di fiducia, non soltanto del cittadino con la sua amministrazione, perché il cittadino sente quell'amministrazione non come un partner, ma come una controparte che non li semplifica la vita, ma che si è rotto il rapporto di fiducia anche tra le amministrazioni, noi dobbiamo recuperare la fiducia anche tra le amministrazioni, anche per imporre l'interoperabilità, che è un fattore determinante per tutto quello che ci stiamo dicendo, di cui state discutendo in questi giorni e che però non può partire se non c'è prima di tutto una fiducia e non una diffidenza tra le amministrazioni. Dicevo che è molto importante la leadership e la visione strategica, perché in questi anni il deficit di leadership, di visione strategica, di coordinamento, di controllo, di programmazione, anche di competenze, hanno secondo me diminuito la qualità della spesa pubblica in ICT. Considero una volta che si fa un ragionamento importante su cosa sia giusto esternalizzare e cosa no, considero il procurement come una importante leva di politica industriale che può apportare delle innovazioni importanti in settori strategici come la sanità, come il turismo, come l'ambiente, come l'energia, con delle ricadute importanti sulle imprese. Noi sul procurement precompetitivo ci puntiamo, ci puntiamo perché può diventare un modo vero di portare innovazione dentro l'amministrazione. Io non vedo da una parte la pubblica amministrazione e dall'altra le imprese, ma vedo che tutti insieme dobbiamo ricostruire un paese che è rimasto indietro per troppo tempo, che è rimasto fermo per troppo tempo. Ecco, noi ce la stiamo mettendo tutta, noi vogliamo cambiare in modo innovativo tutto quello che non ha avuto visione strategica in questi anni. Vi chiediamo la stessa cosa a voi, mi piace molto il titolo Cambiare per Cambiare. Cambiamo tutti perché è cambiando tutti e puntando in alto che riusciamo poi a cambiare insieme l'Italia. Cambiare per Cambiare